durante un giorno di scuola un ragazzo di nome tom sedeva nella sua classe studiando matematica mancavano ormai sei minuti all'uscita però mentre fissava il compito qualcosa catturò la sua attenzione il suo banco poggiava proprio a fianco la finestra così ebbe tutto il modo di voltarsi e guardare il giardino esterno sul prato sembrava esserci qualcosa qualcosa simile ad una fotografia una volta suonata la campanella tom si precipitò a raccogliere quella foto curioso corse talmente veloce che nessun altro prima di lui avrebbe potuto raccoglierla prese la foto tra le mani e sorrise l'immagine presentava la più bella ragazza che tom avesse mai visto indossava un completo stretto e delle scarpe rosse mentre con la mano faceva l'iconico segno di vittoria la ragazza era così bella che subito tom volle conoscerla così girò per l'intero istituto chiedendo a tutti della persona in fotografia quando chiedeva se qualcuno l'avesse mai vista in risposta tornava sempre un no il ragazzo era distrutto una volta a casa decise di chiedere anche alla sorella maggiore della fantomatica ragazza ma sfortunatamente anche quest'ultima rispose di no nel mentre l'ora si era fatta tarda così tom salì le scale posò la foto sul comodino e andò a dormire nel bel mezzo della notte tom venne svegliato da leggeri colpi alla finestra un rumore simile al tippettio di un'unghia ebbe paura dopo i colpetti poteva udire una leggera risatina vide un'ombra vicino alla finestra così uscì dal letto camminò vicino alla finestra l'aprì e cercò di seguire la lieve risata una volta raggiunto il suono quest'ultimo era sparito il giorno dopo decise di chiedere anche ai vicini informazioni sulla ragazza della foto però anche loro risposero no mi dispiace quando sua madre tornò a casa chiese anche a lei ma la risposta era sempre no torno in camera sua ripose nuovamente la foto sul comodino e si addormentò venne di nuovo svegliato da quei colpetti leggeri alla finestra prese con sé la foto e seguì la risatina fuori di casa attraversò la strada dove improvvisamente una macchina lo investì morì con la fotografia tra le mani il conducente dell'auto aprì rapidamente la portiera correndo in aiuto di tom ma era troppo tardi tra le mani del ragazzo però vide una foto e la raccolse la fotografia mostrava una graziosa ragazza che teneva in alto tre dita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti